Clamorosi sviluppi nella vicenda della Coam, l'azienda che detiene il 54% del pacchetto di maggioranza della Lucchese Calcio. Il nucleo di polizia tributare della Guardia di Finanza ha effettuato infatti una serie di perquisizioni presso l'abitazione e gli uffici di diverse persone che risultano indagate, tra cui quelle di Andrea Baccia e di Fabio Bettucci, che ricoprono rispettivamente anche la carica di presidente e amministratore delegato della Lucchese. L'inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri Luca Turco e Christine von Borges, la stessa che ha chiesto il fallimento della Coam nel novembre scorso, prenderebbe spunto da un giro di fatture false per ottenere vantaggi fiscali con operazioni che, secondo gli inquirenti, sono inesistenti. Le società che avrebbero emesso fatture per lavori di manutenzione di altra natura sarebbero ubicate in Puglia. Il reato contestato è fatturazione falsa e ricorso abusivo al credito. Chiaro che questi ultimi clamorosi sviluppi dipingono un quadro tutt'altro che erosio anche per quanto riguarda le vicende societarie della stessa lucchese calcio. Insomma, ci si prepara ad un gennaio quanto mai caldo e questo al di là delle temperature invece polari di questi giorni.